Mi hanno derubato quattro giorni fa. Quattro giorni fa? Esatto. E come mai è venuto solo ora? Beh, ho scoperto... Si è dovuto assentare per ragioni familiari. Ho scoperto che... Che sua zia aveva la varicella. Zia Niculina. Auguri di pronta guarigione. Che c'era nel marsupio? Niente di particolare. A parte un biglietto... D'amore. Ovviamente parliamo di un oggetto quasi nullo in termini materiali, ma a cui il mio amico Dinella attribuisce un valore inestimabile in termini sentimentali e dei motivi. Per il resto non aveva niente di che, che avevi 20-30 lei, le chiavi, il santino di Padre Pio... No, 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 aspetta. Le chiavi me le hanno ridate. Le chiavi gliele hanno ridate. Esatto. Riassumendo, le hanno sottratto un marsupio, un santino di Padre Pio e 20 lei. 30 lei. E il marsupio quanto può valere? Non ricordo. Ma quando lo comprai era in saldo. Non è compiaccio. Scriva che il valore totale della merce sottratta ammonta a 30 lei. C'è dell'altro? Per ora è tutto. Ottimo. Date e firme, la denuncia è pronta. E come pensate di procedere? In modo classico, direi. Voi ci consegnate il foglio e noi mandiamo immediatamente la scientifica a esaminare la scena del crimine. Poi blocchiamo le frontiere e diamo il via all'Interpol per le ricerche. Purtroppo più di così non si può fare. E in quanto pensate di trovarli? Dipende. Se interviene anche l'FBI il caso può avere una svolta nel giro di poche ore. Sul serio? Sì. Vero, vero. Vero, in quanto è vero? Vero? Vero. Vero, vero. Vero. Vero, vero. Vero. Grazie a tutti.